Partirà alle 22 di venerdì 5 aprile da Via 20 Settembre nei pressi del Bivo della Stazione e terminerà subito dopo la mezzanotte in Piazza Duomo, la fiaccolata con la quale ogni anno l'Aquila ricorda i 309 morti del terremoto 2009. L'anticipazione di due ore dell'orario d'inizio della processione commemorativa decisa per favorire una più ampia partecipazione da parte dei cittadini è una delle novità del programma di eventi e iniziative predisposto quest'anno dall'amministrazione comunale insieme con i comitati dei parenti delle vittime e le altre associazioni culturali che hanno voluto dare un contributo. Subito dopo l'arrivo della fiaccolata a Piazza Duomo verranno letti i nomi delle 309 vittime in onore delle quali saranno simbolicamente liberati dai volontari della Croce Rossa 309 palloncini. A mezzanotte e mezza nella Chiesa delle Anime Sante sarà poi celebrata dall'Arcivescovo Giuseppe Molinari una messa di suffragio alla quale seguirà una veglia di preghiera che culminerà le 332 con i 309 rintocchi scanditi dal campanile della Chiesa. Oltre alla fiaccolata il fulcro intorno al quale roteranno le celebrazioni di questo quarto anniversario sarà il gran numero di appuntamenti culturali ed eventi civili dedicati ai temi della legalità e della prevenzione. Su tutti spicca il convegno dibattito Ricostruiamo la legalità partendo dall'Aquila che si terrà il 6 aprile all'Aditorum del Parco un'iniziativa a cura dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati e di Libera, l'Associazione di Lotta alle Mafia di Don Ciotti. Al convegno saranno presenti oltre allo stesso Don Ciotti i giornalisti Gian Antonio Stella e Carlo Bonini il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone e il presidente del Senato nonché ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso. Sono ormai trascorsi quattro anni, quattro anni all'insegna del dolore e della speranza abbiamo costruito un programma molto ben equilibrato attraverso numerosissimi incontri e riunioni la principale voce in capitolo l'hanno avuta i comitati dei parenti delle vittime L'elenco completo delle iniziative è consultabile sul sito internet del Comune ma sono a disposizione anche i numeri telefonici 0862 645580, 645544 e 645521 A margine della conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni Stefania Pezzopane ha aggiunto che dopo il 5 e il 6 aprile, giorni di lutto e dolore inizierà già a partire dal 7, la protesta Lo stallo politico sta compromettendo molto per l'Aquila detto l'assessore alla cultura e neoletta senatrice Dobbiamo riportare qui lo Stato che al momento non c'è Il governo Monti continua a dire che ci sono i soldi ma sappiamo che non è così Il ministro Barca, inviato da Monti per la gestione della ricostruzione è un ministro dimissionario come tutto il governo ma la città ha bisogno di risposte ha concluso la Pezzopane